Sei il primo della lista, partione fascista, sei il primo della lista. Governo di destra, governo di sinistra, che attacca i proletari, è sempre fascista. Fascista, fascista, carogne, tornate nelle fogne! Fascisti, carogne, tornate nelle fogne! Sì, potere, dev'essere operato, sì, potere, dev'essere operato! Per preparare la roganza del governo Berlusconi, per preparare l'avanzata della Confindustria, è giunto il momento che i lavoratori scendono in piazza, facciano sentire la propria voce, non al piano Marchionne, non al governo Berlusconi, non all'avanzata della Confindustria, solo così i lavoratori di Pomigliano d'Arco riusciranno a fermare l'avanzata, solo dicendo no al piano Marchionne riusciremo a salvare Pomigliano, perché questi signori, la Confindustria, la via! Ecco, pochi soldi fa spesi bene, a boh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a casa la banda per gli scorni contro la griffi e i padroni, andiamo a casa la banda per gli scorni. Valter! Grazie a tutti. Grazie a tutti.